Ci ha tirato questa soluzione di fotovoltaico innovativo che Gianluca della Wienerberger ci... Buongiorno a tutti, nel pieno rispetto del lavoro di questa azienda, volevo segnalare che noi abbiamo il privilegio di distribuire le tegole fotovoltaiche di questa azienda italiana che le produce a Biella in Piemonte, sono molto simili alle tegole di Tesla, possono esserci in più colori come vedi, e vanno a produrre energia elettrica pulita in tutti quei posti dove il Comune e l'Ufficio Tecnico Locale non ci permettono di utilizzare i moduli fotovoltaici tradizionali. Se ti fa piacere avere un preventivo o ricevere le schede tecniche di questo prodotto, scrivici in bio e saremo felici di aiutarti. Un saluto a tutti da Marco Faia, il tuo esperto del fotovoltaico. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.